Benvenuti in questo video tutorial dove impareremo ad accedere alla nostra area utenti e ad ascoltare i brani allegati a musica jazz in versione streaming. In primo luogo accediamo al sito www.musicajazz.it e accediamo poi ad area riservata. Inseriamo quello che sono le nostre credenziali, nel mio caso le avevo già inserite, e andiamo su Ascolta Album. Clicchiamo nuovamente Ascolta Album e ci appariranno tutti gli ultimi cd pubblicati da poter ascoltare in streaming ed anche quelli che sono i più ascoltati. Clicchiamo l'ultimo pubblicato, apriamolo e potremo vederne una piccola presentazione, quello che sono tutti i brani da poter ascoltare comodamente ovunque voi siate e possiamo anche scaricare il libretto in pdf per poterlo poi stampare.